Robottino volante, robottino, oddio, oddio, è difficilissimo da guidare il suo coso, va tutto storto. Ciao a tutti i creeper e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars. Quest'oggi aprirò tutte e dico tutte le casse e le varie ricompense del Brawl Pass. Tranne le ultime perché non ci sono ancora arrivato e non credo che ci arriverò in due settimane ma, boh, in tal caso vedrete. Vabbè comunque, prima di cominciare vi ricordo come sempre perché c'è sempre gente che me lo chiede nei commenti che per registrare con me dovete entrare nel gruppo Telegram Chiocciola Papere Clash su Telegram. E' semplicissimo, cioè non è tanto difficile. A questo punto direi di cominciare ad aprire le varie casse. Oh, ci aspettano già due megacaste. Per prima cosa abbiamo quelle gratuite e poi andiamo con quelle incredibili. Via! I can't believe it! No, non ci credo! Ma Iris! Cioè ragazzi, vi ricordate nello scorso episodio ho trovato due Brawler e adesso pure l'altro! Iris! Che incredibile! Meno una parola, c'è la mia fortuna! In questi giorni sta superando ogni limite su Brawl Stars! Oddio, chi sono questi? Mamma mia! Sono già entrati dei tizi! Ok, degli iscritti sono già entrati! Sì, devo aprire le casse, quindi aspettate! Allora, vediamo! No, dai, guarda! Epico! Letteralmente! Ok, andiamo avanti ad aprire tutte cose! Eh, addirittura no! L'abilità di Pam! Non ci credo, questa la stava cercando tantissimo! Wow, andiamo avanti! Pure! Cos'è questo? Generatore di impulsi! Mette la torretta a recuperare... Oh, bellissimo! La torretta fa recuperare più vita, praticamente! Ok, altri puntini che andiamo a dare sempre al nostro nuovo Brawler che ne ha 500.000! Guarda lì che roba! Io non dò di 5 c'è cosa? Ok, io ho esagerato! Porca paletta! Ciao! Scusate un secondo! Quanti gliel'ho dati? Mille gliel'ho dati! Ok, ho un po' esagerato! Miglioriamolo al massimo, ma sì! Praticamente... Guarda! Di più! Di più! Di più! E questo è il massimo! Ed è livello 8! L'ho appena trovato! Grado 1 livello 8! Com'è possibile? Guardalo! Fierissimo proprio! Wow! Benissimo! Quindi, direi di provarlo subito su Raffagemme! Io non ho parole! Questo è davvero incredibile la fortuna che c'ho! Cioè, livello 8 di grado 1! Come si fa? Va bene, dai! Partiamo! Allora, non so perché sto avendo problemi di condizioni, infatti questa è la seconda partita che faccio perché nella prima proprio non riuscivo a giocare, ma non capisco perché! Boh, comunque proviamo sto brawler qui, anche se il lag è contro di noi! Va bene! Oddio, 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 oddio! Allora, proviamo un po'! Spara tre colpi che si vanno a riunire e fanno 900 l'uno, sul serio! 900 l'uno sarebbe tipo 3000, se li colpisco con tutti e tre! Ma, oltre che questa mappa è un po' contro di me perché fa schifo tutti i muri qui al centro, non saprei come fare! Tiè, 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 tiè! Mamma mia, il lag però, mamma mia, è potente il lag oggi, non capisco! Ma perché? Boh, proprio quando devo registrare! Tiè! Guarda, no, è devastante davvero! Se io colpisco bene il penuto, ok, no ragazzi, è difficilissimo da usare, soprattutto con il lag, porca paletta, perché proprio adesso? Eeeh, oddio, ok, però, vabbè, bisogna provare a vincere lo stesso, aiuto, aiuto piccioni, aiutami! E la fine! Porca puttana! Grande! Grande, grande noob! Resisti! Ok! Via, via, via! Dai che ieri abbiamo fregate! Ma perché il lag? Ma perché? Prima funzionava bene, ho pure provato! Che deprimenza! Oddio, 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 oddio! Resisti! Ok! Grandissimi ragazzi, possiamo farcela! Mi vuoi riprovare la super di questa cosa, il problema è che non sto colpendo nessuno! Aiuto! Scappa nube, non c'è andare addosso, per molteplici motivi! Uno perché c'è tutto che hai le gemme, e due perché c'è uno che dovrebbe colpire a distanza! Aiuto, qua ci sono le spine! Lì c'è un muretto! Spada blu! Grande, non so cosa hai fatto, ma complimenti! Ah, 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 ok! Benissimo, vorrei provare la super! Sì, come si usa, così! Tiè! Devo acompicare un casino! Però ho colpito il bersaglio! Mamma mia ragazzi! Andava tutto stordo sto coso! Vabbè! Nonostante il lag e tutto il resto, ho vinto! Non so come! Grazie a nube, probabilmente! Eccoci qua con Gixbera! Mamma mia! Aiuto, aiuto! Ho preso questa qui, che come cavolo si chiama? Non mi ricordo! Maxine, giusto? Che è rapida! Stiamo giocando a footbrawl! Vai, Bera! Ehm, no, niente! A che approccio ha ucciso? Guarda il Pucito Ballerito come si muove in modo scheggistico! Proprio è una scheggia! Capito? Non chiedo che sia quello il significato! Vabbè! Ta 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 ta! Ta 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 ta! Oddio! Mamma mia! Sono potentissimi questi eh! Eh perché c'è hacker pro! Lui è un hacker quindi è difficile! Però ce la possiamo fare! Ho anche trovato l'abilità lì! Il gadget di Maxine che fa tipo... Swoosh! Ho anche settato i tasti sul computer! Perché prima non potevo utilizzarli, gadget dal computer! Ho dovuto impostare i tasti! Vabbè! Siamo ancora pari ma so che ce la faremo! Oh il potere! Ok mi avvicino anche agli altri e poi... Potere! 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 Tiè! Ok prendi la palla! E gol! E no invece! Dai ragazzi siete in due! Potete farcela! Prendila! No! Non ci credo! Hacker l'ha ucciso! Però c'era malattia quasi! Dai! Porca di quella paletta rugginita! Vieni qui! Stupido hacker! Mamma mia! Lo hacker! Aiuto! Vieni qui anche te! Russo! Non lo so che sia quello! Aiuto! 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 Ho sbagliato! Non volevo andare di qua per niente! Per niente! Ok! Sì! No! C'è sempre l'hacker! Mamma mia! Eccolo! Grandissimo! Vai Bera! So che sei avvelenato! Hai due di vita praticamente! Ma oddio! Ah! Ho sprecato il super tantissimo! Aiuto! No niente! Sono devastanti questi! La loro difesa è in piena terra! Uish! Dai! No! No! L'hai mancato per pochissimo! Il lag non mi fermerà! Il lag non mi fermerà! Ah! Cosa cavolo no? Via! E che porca paletta! Ah! Dio! Non ci credo! Ho fatto 13 kg ma mi hanno ucciso anche a me! 10 secondi e si distrugge il campo! Mi sa che finirà molto male! Ma invece no! Perché noi siamo potenti! Quindi dai! Ho fiducia nella squadra! Bera! Dai! Dai! Smitragliateli! Smitragliateli! Dai! Eh! Abbiamo vinto ormai! Abbiamo vinto! Non ci credo! Sì! Invece! Hanno fatto gol! Pensavo che avessi perso il palo! Wow! Partita incredibile! Per finire! Io! Il mitico Bera! Che potrei chiamare anche Pera! Ma vabbè! Faremo una piccola partita! A sopravvivenza! Insieme a Iris! Che sembra essere alquanto devastante! Nemici! Moltissimi nemici! Troppissimi nemici! C'ho paura! Perché hai piaciuto Frank? Fa abbastanza schifo in sopravvivenza! Vabbè! Usa Frank lui! Anch'io una volta usavo sempre soltanto Frank! Grande! Guarda come va deciso! Distruggiamo tutti! Eeeh! Potentissimo! Vai vai vai! Ti seguo lentamente! Che sentirete in sottofondo? Un aspetto di bruciato perché ci sono quelli che tagliano l'erba! Vabbè! Proprio adesso! Ovviamente quando registro! Vieni qui! Stupido! Pennuto! E niente! Alla fine! Oddio! Oh! Questo da dove sbuca! Aiuto! C'è il primo! Aiuto! Aiuto! Picchio! Eeeh! Grandissimo! Maia! Potentissimi! Sconto finale! Lì già! Questo lo pendo io! Dallo a me! Dallo a me! È mio! Sei! Sono potentissimo! Vieni qui! Non hai speranze! Fuggi! Anche te! Cosa pensi di fare? Siete bloccati! Non so come reagire! Il lag l'ha colpito! Che! No! No! Era tutta una tecnica! Si fingeva morto per poi ritaccarmi! Tipo i bradipi! Non so che animale si finge morto! L'opossum credo! Vabbè! Tipo un opossum ecco! La tecnica dell'opossum! E mi ha distrutto! Adesso ritorno io! E! Robottino volante! Robottino! Oddio! Difficilissimo da guidare so cosa! Va tutto storto! Ah! Dove sta finendo? No! Sotto epico però! Quindi ragazzi! Direi che per oggi è tutto! Oh giusto! Qua c'è un'altra cassa da aprire! Me l'avevo scordata! Cassa enorme! Vai! Ci sarà qualcosa di incredibile? No! Perché sono troppo affortunato dai! Ho trovato tantissima roba solo oggi! Vabbè! Quindi! Direi che possiamo concludere qui! Per oggi è tutto! Vi ricordo che per giocare con me dovete sempre entrare nel gruppo Telegram! Chioccio alla papera e Clash! E via! Ci salutiamo! Ciao! A tutti! Ciao! Grazie a tutti.